Ben trovati al Tg Sordi di Lecce 7. In Puglia 5.612 nuovi casi e 22 decessi. Più di 85.000 le persone ancora positive secondo l'ultimo bollettino. Intanto Asle Lecce riorganizza i punti vaccinali. Dal 1 marzo rimarranno attivi Campi Salentina, Martano, Galliano del Capo, Nardò, Gallipoli e la caserma Zappalà di Lecce. Maxi furto all'ospedale di Gallipoli. I ladri sono riusciti ad accedere di notte al CUP del Sacro Cuore e a portare via circa 15.000 euro. Nuovo autovelox sulla Lecce Maglie. Il dispositivo si trova sulla carreggiata in direzione Lecce, in prossimità dell'uscita per Cavallino, ma non è ancora entrato in funzione. Tragica scoperta a Lecce. Un avvocato di 44 anni, originario di Brindisi, è stato trovato senza vita nella sua abitazione di via Cataldi. L'uomo non dava sue notizie da circa dieci giorni. L'estate di Virna. Questo il titolo del cortometraggio scritto e diretto da Alessandro Zizzo, che verrà girato nei prossimi giorni tra Sava, in provincia di Taranto, e la Marina Leccese di San Cataldo. Il film vedrà come protagonisti Anna Safroncic e Adelmo Togliani. Il Lecce batte il crotone e torna capolista della Serie B. I gol del successo giallorosso portano la firma di coda, doppietta, e strefezza. Oggi sfida con il Cittadella. Il Lecce batte il crotone e torna capolista della Serie B. Grazie a tutti.